Ciao amici, ciao amici del canale YouTube e probabilmente anche del mio Instagram Stories di Instagram, quindi questo video sarà uno short perché io ho già programmato gli altri video e quindi non ce la faccio a non aspettare di vedere. Questo video sarà uno short speciale perché non me lo aspettavo. Questo è il timbro di Topolino, il prezzo costa 6 euro, stasera l'ho preso al centro commerciale, come potete vedere il 3492, poi il packaging si presenta così, scusatemi per la posizione ma dietro è così, qui ci dice tampone con l'inchiostro e il legno, il manico e questo è quello che è sul Topolino, il timbro eccolo qui, costa 6 euro e il 3.304, già l'ho detto, 3492 e ora stavo chattando con Nick Ducavomp del canale Ducavomp perché conosce le storie del poeta, no del poeta, del disegnatore Manilo, ora non mi ricordo, poi ora ve lo apriamo e lo scopriamo. Eccomi qui aperto, allora il cartone si presenta con questo Deplian, il solito Manilo Casfagna, Casfa, penso di aver pronunciato, Nick chiedo scusa, vedete qui è rotto, vabbè il cartoncino si è rotto, vabbè, pazienza comunque, così, allora Manilo, io ho visto che ora è stato cambiato l'indice, qui io amo lei, le piccole amelie, ho visto il secchio di Halloween di Batman stasera la coppa, vedete, qui è cambiato, le storie sono qui, Topolino contro, episodio di un episodio su tre, Giova Perone nello spretto dell'agonia bianca, cuore cambiuse, ora non so chi è, Terror Factor, Topolino, l'invasione invisibile, Giova Perone, Terror Factor, episodio 2 su 2, quindi abbiamo nello stesso numero due episodi, conclusivi, Faberini e Ladro del Son, Minni, in, non aprite in quello asetto, e l'incarico, perché è lui, Manilo, Casfagna. Allora, questa è l'anticipazione che a dicembre c'è un Topolino con una copertina a sorpresa, nel prossimo ora sarà qui, questo sarà il numero prossimo, e il problema è che fra due settimane c'è anche il puzzle della Clementoni Natalizio dei paperi dei topi, il 9, qui è tutto in cellofonato, mi sembra un po', scusate, mi sembra un po', come si dice, le maghette degli anni 80, quelle della Centauria, come è il packaging dello scatolo, ora vi apro, e ve lo mostro, la confezione si presenta così, e all'interno è così, è sigillato, come potete vedere c'è una base, ora, questi short stories saranno molto di più, vedete? Ora, non so se riuscite a vedere, sì, così è il diritto, è proprio di legno, e poi c'è la base dove l'inchiostro, questa è la base, scusatemi, questa è dove va il coso, io ovviamente per ora lo tengo separato, diciamo, lo tengo confezionato, perché giustamente è per collezione, noi ci vedremo a fine mese, prima di Halloween, con un nuovo video su YouTube, ciao per quelli che mi hanno visto su YouTube, e ciao anche per quelli su Instagram, ciao ragazzi! Ciao!